Proprio su questo, Ivan, infatti il DSM, che è il manuale diagnostico... Scusa, rito, perché so dove vuoi arrivare. Ok, beh, non possiamo non citarlo. Dai, vai, vai. Ma la risposta sarà stessa, non troverai. Non possiamo non citarla. Va bene, la domanda è molto semplice. Il DSM è questo manuale, questo grande manuale delle patologie che viene, diciamo, ogni tanto revisionato, siamo alla quinta edizione, e in questa quinta edizione è stata inserita tra le dipendenze, tra una nuova categoria, le new addiction, e tra queste c'è proprio anche la dipendenza da internet. Allora, visto che tu hai una voce un pochino fuori dal coro, e questo a noi ci piace, no? Allora, volevo chiederti a te un'analisi critica di quando, diciamo, possiamo riconoscere i segnali, i campanelli d'allarme che ci fanno capire che magari o noi stessi o qualcuno che c'è accanto sta comunque cominciando a utilizzare in maniera un po' distorta e disfunzionale il digitale. Beh, come per ogni dipendenza, quando questo comportamento inizia ad essere disfunzionale per la propria vita, o per la vita di chi li circonda è relativo, però soprattutto per la propria vita. Questo è un po' come per tante altre, definiamo le dipendenze. Quali sono questi segnali? Quali sono questi segnali? Beh, i segnali sono sicuramente alterazioni dell'umore, il fatto di, appunto, prima ho parlato di fear of missing out, quindi comunque l'incapacità di lasciare questo dispositivo banalmente anche nell'altra stanza, ad esempio. magari sono a cena, io ad esempio quando sono a cena il cellulare, perché la cucina in un'altra stanza banalmente rispetto al salotto, il cellulare sta nel salotto, perché tanto penso se qualcuna urgenza mi telefona e sento squillare, ad esempio. che invece le persone che non riescono a separarsi. A separarsi, esatto, questo sicuramente. È un segnale. Esatto, sì, così come il controllo spasmodico del mezzo. Penso ad esempio alla gente che aggiorna Facebook ogni tre secondi, di una cosa che si è cambiato nel mondo in tre secondi, nei quattro amici che hai, tra l'altro. Insomma, questo discorso qui. Però attenzione, perché sulla dipendenza bisogna andare molto delicati, perché in realtà molto spesso dietro a questi comportamenti non c'è tanto la dipendenza da smartphone, ma si tratta di disagi ben più profondi. Quindi attenzione, perché non è Internet che genera dipendenza, ma sono le persone che, per vari motivi loro, trovano in Internet il rifugio, lo sfogo, la catarsi e così via. Quindi la tua visione è di un Internet compensativo? Sì, sì, sì. Allora, il più delle volte sì. Questo lo dicono anche le ricerche. Pensiamo ad esempio ai famosi ikikomori. Purtroppo ormai gli ikikomori vengono associati all'uso da dipendenti di Internet, di videogiochi, da tecnologia, che in realtà è un errore. Ok, ti fermo un secondo, Ivan. L'ikikomori, per chi non conoscesse questo particolare fenomeno, sostanzialmente, detto molto brevemente, è una scelta consapevole che alcune persone fanno di ritiro sociale. Per cui a un certo punto decidono di non interagire più con il mondo esterno per un certo lasso di tempo e si ritirano, diciamo, da quelli che sono i contesti più generali, più generici di relazione sociale. Ecco, e in gran parte del loro tempo, appunto, come stavi dicendo anche tu, Ivan, lo occupano con altro genere di attività. Esatto, che non è necessariamente Internet, perché io sono, per lavoro, in occupazione di queste cose, sono anche entrato in contatto con ragazzi, in questo caso, perché, vabbè, la popolazione sta crescendo, comunque tendono ad essere ancora molto giovani, almeno in Italia, e in realtà non è così scontato che passassero tutto il tempo su Internet. Io ho conosciuto ragazzi che, ad esempio, passano tutto il tempo a suonare, a leggere e via di questo passo. Quindi, attenzione, in questo caso, purtroppo, dicevo, questo fenomeno viene associato con l'utilizzo intensivo di Internet, dei videogiochi, dei digitali in sé. Allora, ecco che si confonde la causa e si confonde l'espressione del disagio. Ossia, si pensa, questi ragazzi stanno chiusi nella loro cameretta tutto il giorno perché stanno su Internet. In realtà no, molto spesso, quasi sempre, in realtà è il contrario. Cioè, stanno su Internet perché stanno chiusi tutto il giorno nella loro cameretta e in qualche momento del tempo se lo passano. Ok? Quindi, intanto è vero che finisco solo un attimo questa introduzione a questo discorso. il fenomeno degli kikomori come problema sociale viene studiato in Giappone sin dagli anni Ottanta, quindi abbondantemente prima di Internet. Il fatto che adesso si parli di Internet, di kikomori, eccetera, eccetera, è semplicemente un discorso di timing, molto semplicemente. Perché? Perché nella nostra società, quindi la società italiana, la società occidentale, si sta sviluppando in questi anni in cui, guarda a caso, c'è anche il digitale. Ma le cause sono tutt'altre. Ok? Questo? Sì. Questo collegamento che hai fatto di come l'Internet rappresenti uno strumento di compensazione che spesso facciamo di altri disagi personali, intrapsichici. Hai accenato anche prima all'ansia, se non sbaglio. Sì. Sì, esatto. Quali sono, diciamo, con che cosa si incastra, no? L'utilizzo compulsivo di Internet, con quale disagio interiore si concilia di più? Beh, allora, innanzitutto c'è appunto il discorso dell'ansia. Perché? Perché l'ansia, attenzione, l'ansia non è tanto l'utilizzo intensivo di Internet in generale, quanto il controllo spasmodico dei social network, tipo il Facebook. Prima ho citato quelle persone che ogni due secondi vanno su Facebook, leggono i primi posti della bacheca, poi aggiornano, poi i primi posti della bacheca, poi aggiornano, aggiornano, aggiornano. Ok. Ad esempio. Perché? Perché l'ansia... Questo atteggiamento che cosa denuncia? Allora, l'ansia di per sé, tra i vari elementi, ha l'idea di, il tentativo di controllare l'ambiente che ci sta intorno. E con il digitale, ecco che io sono sempre di che controllo su Facebook che cosa sta succedendo, ad esempio. Ok? Questo è un esempio. Certo. Quindi sicuramente c'è questo discorso qui. Dietro il ritiro, il rifugio nel digitale, c'è anche banalmente la fatica a mettersi, ad esporsi in prima persona. Allora ecco che la distanza, lo schermo, mi offrono l'illusorietà di una protezione e quindi io mi sento più portato ad interagire, ad esempio. Però attenzione, perché anche questo interagisce dentro certi limiti, perché delle ricerche hanno confermato che in realtà il modo con il quale tu interagisci sui social network ricacchi in qualche modo la modalità con la quale tu interagisci al di fuori. Cioè tradotto, se sei a sociale fuori, fare fatica anche sui social network. magari ci proverai qualche volta, però prima o poi finirai per non parlare più con nessuno, ad esempio. Quindi c'è anche questo elemento che è anche molto importante.